buongiorno sono monica caponeri sono la responsabile della gestione documentale della conservazione di arpat arpat è l'agenzia regionale per la protezione ambientale della toscana è un ente che svolge il controllo e monitoraggio e il supporto a tutti gli enti locali e tutte le pubbliche amministrazioni della regione toscana nonché la raccolta e l'elaborazione e la messa a disposizione di tutti dei dati ambientali che noi raccogliamo durante la nostra attività è dal 2004 2005 che ha iniziato il processo di dematerializzazione dei flussi documentali in agenzia io sono arrivata esattamente in quel periodo lì e mi sono occupata di questo progetto e me ne occupo tuttora è stato acquistato un sistema di software un sistema software di protocollo informatico e di gestione documentale e in particolare dal 2009 2010 sia per obblighi normativi ma soprattutto per volontà proprio dell'agenzia sono state introdotte la posta elettronica certificata che è direttamente collegata al sistema di protocollo informatico e la firma digitale che è stata distribuita prima ai nostri dirigenti e poi a gran parte del personale anche non dirigente è in quest'ambito che abbiamo incontrato a ruba che ci ha fornito e ci fornisce a tuttora sia la posta elettronica certificata che tutte le firme digitali i risultati di questo progetto di dematerializzazione si sono visti già dall'inizio ma sono diventati più forti nel corso del tempo nel 2009 2010 sono entrate in vigore gli obblighi normativi dal 2012 abbiamo avuto un sorpasso della documentazione digitale rispetto alla documentazione cartacea e nel 2018 abbiamo raggiunto abbiamo superato il 90 per cento come percentuale di documenti digitali creati originariamente in digitale e spediti tramite posta certificata e anche ricevuti tra i progetti di dematerializzazione che abbiamo in atto due sono particolarmente significativi il primo è per la digitalizzazione dei rapporti di prova ovvero della documentazione che scaturisce dalla nostra analisi di laboratorio e l'utilizzo della firma digitale remota che consente l'uso e la produzione di documentazione digitale anche quando non sei in ufficio nel panorama italiano sono forti le spinte verso l'innovazione e la digitalizzazione della pubblica amministrazione che sta diventando appunto una pia digitale ARPAT ha iniziato il proprio percorso di dematerializzazione da molto tempo ha impiegato risorse ha costruito progetti ed ha raggiunto grandi obiettivi nel futuro digitalizzando ulteriormente tutti i nostri flussi documentali contiamo di accorciare e quindi di efficientare sempre di più la nostra azione amministrativa e tecnica e soprattutto di migliorare quindi con questo la protezione dell'ambiente toscano